benvenuti a tutti sono oliver direttore delle tenute albano io e il mio staff saremo lieti di potervi accogliere preso la nostra meravigliosa struttura una masseria del seicento tra vignette uliveti e bosco un borgo ricco di storia e tradizione con le sue 40 camere che vi offriranno la possibilità di vivere da noi un'esperienza indimenticabile alle porte del salento e oltre all'albergo con le sue camere classiche junior suite e suite vi proponeremo all'interno delle nostre tenute una serie di servizi esperienze a partire dalla nostra meravigliosa spa con i suoi trattamenti massaggi percorso benessere la nostra chicca la piscina estiva il nostro ristorante don carmelo con i suoi vari piatti tradizionali del territorio e i suoi veini selezionati della cantina albano vigneti oliveti laghetti e soprattutto il nostro bosco milenario curtipitrizi e i suoi cavalli in libertà e dunque vi possiamo dare un unico consiglio prenotate tramite il nostro sito internet www.tenutealbano.com e avrete la possibilità di vivere una vacanza rigenerante insieme a noi insieme al nostro staff e ovviamente insieme ad Albano si no non 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 Grazie a tutti.